attraverso attilio masiero comunità per la via della conoscenza attraverso attilio masiero voce della quiete punto vagliano chiocciola gmail.com a cura dvb ogni volta che non riuscite ad avere la vita in pugno tentate di attuarlo almeno in certi settori o in certi aspetti della vostra esistenza scontando già il fatto che in altri aspetti sarete un po vittima degli altri e quindi vi dividete a compartimenti ci sono vostre parti che entrano in competizione con gli altri vincendo ed imponendosi e così avete in pugno la vita mentre ci sono altre parti di voi che sono sconfitte e quindi vi ritrovate assorbiti dagli altri non sentendovi la vita in pugno e così la vostra esistenza e tutto questo mescolio di aspetti su cui dominate e di aspetti su cui siete dominati ed anche tutta la vostra personalità è intrisa dei medesimi aspetti da una parte dominate da una parte siete dominati da un'altra parte ancora cercate di conciliare il dominare e l'essere dominati con aspetti o con modalità che sono un miscuglio dell'uno o dell'altra in una ridda che spesso vi è scarsamente comprensibile la spiegazione che ogni qual volta voi dominate vi è chiaro chi siete ma anche nell'essere dominati vi è chiaro chi siete mentre in tutte le altre situazioni intermedie questo non vi è assolutamente chiaro e perciò gran parte della vostra vita è questo miscuglio di dominare e di essere dominati dentro lo stesso rapporto dentro la stessa relazione o dentro lo stesso comparto della vostra esistenza ed è lì che si crea in voi quel senso di essere vittime o protagonisti della vostra vita eppure se voi guardaste con occhi diversi l'essere dominati non sarebbe più un dominio perché si modificherebbe anche il vostro modo di darvi agli altri o di concedere agli altri di invadere il vostro terreno perciò non sarebbe più un'invasione ma a quel punto sarebbe altro continua nei prossimi video